Sono un importo che io devo ancora fondamentalmente incassare, quindi potrei avere venduto dei beni, ma i clienti non mi hanno ancora pagato, quindi ho un credito verso i clienti. Oppure potrei avere un credito fiscale, quindi ho fatto la liquidazione IVA, ho un credito IVA, quindi sono materialmente, diciamo in questo caso non proprio dei soldi che mi verranno pagati, a meno che chieda il rimborso IVA, ma diciamo che sono dei soldi che posso far valere nei confronti dello Stato per la prossima liquidazione IVA.